Sono Muraka Giuseppe e sono direttore di stabilimento di Impra Mortara. Ilpra si occupa della costruzione di macchine di termosaldatura, termoformatura e formfinsilla. Ilpra commercializzava il prodotto e ha deciso di inserire all'interno le aziende che facevano parte di Ilpra, che avevano ragioni necessarie diverse e quindi da due anni Ilpra produce direttamente. I vantaggi della reorganizzazione sono visti quasi da subito, perché io sono intervenuto al momento in cui l'azienda si stava trasformando da un'azienda che produceva in serie e personalizzava il 20-30% del suo prodotto, a un'azienda che ha dovuto rispondere a delle richieste di mercato di una personalizzazione estrema. Quindi l'utilizzo del gestionale diventava necessario e indispensabile. abbiamo scelto il nostro partner di RP2 di Centro Software e i consulenti ci hanno aiutato a fare questo percorso riorganizzativo. La capacità di configurabilità di Summer RP2 è stata importante in questo processo. L'aspetto di RP2 che balza all'occhio è la semplicità dell'utilizzo. Centro Software il miglior ERP per gestire le imprese italiane COMMUNI